no da qui no, però ci si può provare, da qua ci si può provare, ci sta eh sì, eh sì, eh sì godiamo anche noi ragazzi questa vittoria del Napoli ma ragazzina bene bene facciamoli vomitare che magari si stancano di tenerla giù, è il croccino si può provare lì, infatti ci ho provato, ci sono riusciti cioè devo dribbliare tutti per farmi fischiare un fallo che lavoro ragazzi guarda qua il gol, ma qua ci sta, ci sta, no è alta no è detto, è detto, è detto, sì adesso ho preso la mira il segno è buono ci ho preso la mira, fammela tirare ah fa schifo si, il croccio fa te ah fa schifo figa dovete stare molto fai altro no vabbè non fa meglio no, se solo così non tiro da fuori no basta cioè i tuoi ragazzi sono stati pulizioni e non tiro da fuori eh vabbè mamma mia che roba che tristezza la rabbia ahahahah voglio dire qualche cosa hai i tuoi ragazzi dovresti parlare, non so sbriare se fai un gol sei un mister taciturno non sono come il sedotto e voi che cos'è? eh no, adesso siamo tattici, adesso cambiamo atteggiamento favorire la tecnica qui c'ha le maniche rosse del Napoli ah ho visto rete in eh sì ragazzo mio, questo qua è Mardens ahah no, Insigne Insigne te l'ho detto che era facile per noi fare questo gol non ti sembra un gol facile? cioè per me è un calcio di rigore guarda, oh e che rovo? Maradona ahahahah stiamo bene vuoi dare colpa al portiere guarda che anche tu Insigne non ho visto niente l'ultimo non ho visto mai niente non ho visto niente bene